Musica Continua il nostro cammino di preparazione alla venuta di quel bambino annunciato che cambierà il volto della storia e la nostra preparazione deve consistere nel svuotare il nostro cuore per accoglierlo. Ci accompagna in questa preparazione, come sempre, padre Ernesto della Corte. Buona Pasqua della settimana! Buona Pasqua della settimana, ormai siamo a pochi giorni dalla vigilia del Natale. Eh sì, e in questa quarta domenica di avvento la liturgia ci invita a vivere con Giuseppe e Maria. Eh sì, guarda, oggi direi, hai detto proprio bene, io direi che questa è una delle pagine più belle del Vangelo del nostro caro Matteo ed io la chiamerei la vocazione di Maria e di Giuseppe. Io non capisco perché dobbiamo separare questi due sposi che hanno vissuto una vita insieme. Da quando erano piccoli sono cresciuti e poi la vocazione che il Signore dà a tutti e due. In Maria c'è questa opera di Dio che Luca descrive nel suo Vangelo dell'infanzia e il nostro Matteo dedica più tempo al nostro Giuseppe, quindi io che lo chiamo il facitore della volontà di Dio. Alche anno fa ho fatto uno studio su di lui citando proprio questo versetto 19 di oggi che ancora oggi è tradotto in un modo strano. Perché Dio chiama tutti e due ad essere la famiglia umana del figlio di Dio. Non dimentichiamo, cari amiche e cari amici, che quando Dio interviene nella vita di Maria, in Luca, lo descrive Luca, e nella vita di Giuseppe, erano già sposati ma non convivevano. Perché i due giovani, secondo il diritto ebraico, celebrano prima di tutto i santificati, quindi c'è la celebrazione giuridica del matrimonio che dura al massimo un anno. Poi dopo vanno a vivere insieme. Dio interviene nella vita di questi due giovani proprio durante quest'anno, quando sono sposi ma non convivono. Ecco perché Maria e Luca dice, l'ha detto domenica scorsa, come avverrà questo dal momento che non conosco uomo, cioè sono vergine, non ho avuto rapporti con mio marito. Come farò ad avere un figlio? E l'Angelo le ha spiegato due domeniche fa, nell'Immacolata, che cosa succede. Per cui, certamente, credo che Maria abbia raccontato allo sposo Giuseppe l'annuncio dell'Angelo. E Giuseppe non ha mai pensato di lecare danno alla donna che ha sempre amato. Ecco perché Matteo lo chiama o anerro di caios, l'uomo che è giusto. Ma giusto in che senso? Non secondo la legge, non come pensiamo noi a un buon uomo, dicendolo con un'espressione molto, come dire, abituale. Giuseppe è giusto davanti a Dio. Cioè, lui ogni cosa che fa, la fa davanti a Dio. Perché se non fosse così, avrebbe dovuto fare il libello di divorzio, rimandare a casa Maria. Per cui non lo ha fatto. Non lo ha fatto perché Giuseppe è un uomo giusto. Giusto nel senso che vuole vivere davanti a Dio. Ha capito che effettivamente c'è un progetto di Dio sulla sua sposa. Ecco perché è interessante che questo giovane, perché Matteo, non dimenticate, che questo non era un vecchio, come spesso abbiamo nelle rappresentazioni anche pittoriche, forse per questo falso timore di difendere l'onorabilità di Maria. È un giovane che ha avuto una vocazione, è un timorato di Dio. E quel versetto 19, in quello studio io dimostro che bisogna tradurlo in modo diverso, non voleva divulgare pubblicamente il mistero dell'incarnazione del figlio di Dio. Ma chi ci avrebbe creduto? Se avessero detto a noi oggi che Maria era incinta per opere dello Spirito Santo, ma chi di noi ci avrebbe creduto a quell'epoca? Ecco perché non voleva divulgare pubblicamente il mistero dell'incarnazione. Decide di fare un passo indietro. Cioè Giuseppe avverte di trovarsi davanti a un grandissimo mistero. Ecco perché cerca di comprenderne il senso. E mentre egli riflettiva, qui c'è un testo molto bello, Matteo usa un verbo, entiumeo mai, riflettiva su tali cose. Ricorre anche in Matteo 9, al versetto 4, riflettiva su tali cose. Che vuol dire qui Matteo 1,20? Passandogli per la mente tutti questi pensieri, Giuseppe è pervaso da molti pensieri, non riesce a trovare la soluzione. Insomma il nostro Matteo ci descrive un Giuseppe, un giovane Giuseppe, sposo di Maria, che è in uno stato di ricerca. Che bella questa espressione. Dovremmo essere anche noi in un continuo stato di ricerca, un atteggiamento che potremmo definire di ponderazione, di preghiera, di attesa. Solo Dio poteva rivelargli il senso dell'evento. Ecco perché in Matteo, che scrive per una comunità giudaico-cristiana, che cosa fa Dio? Gli manda un angelo in sogno. Perché il sogno? Perché secondo i rabbini il sogno è una piccola profezia. E Dio nel sogno gli manda a dire di continuare a fidarsi. Può prendere con sé Maria e il bambino che nascerà, perché anche lui deve entrare nel progetto di Dio. Ecco la meraviglia. Questa vocazione non è solo di Maria, ma è di tutta la famiglia. E lui sarà padre effettivo del figlio di Dio. Perché sarà padre effettivo? Perché Maria ha dato la carne, la propria carne al figlio di Dio. Pensate. Ma Maria è la carne di Giuseppe perché è la sua sposa. Per cui Giuseppe veramente deve esprimere nella sua vita la paternità di Dio. Ma riflettiamo un attimo, amiche e amici carissimi. Maria Immacolata, l'abbiamo visto due settimane fa, è stata preparata da una vita. Ma Giuseppe, ma ci pensate? Chiamato questo giovane a rappresentare sulla terra la paternità del Padre Celeste. È veramente una vocazione grandissima. Ecco perché dice l'angelo non temere, anzi, gli dice anche il nome che deve dare. Gli dovrà dare il nome Yeshua, l'Emmanuele, perché è stato generato in Maria, sua sposa, dallo Spirito Santo. E infatti il testo dice che Matteo, svegliatosi, prende con sé la sposa. Giuseppe obbedisce. Giuseppe è come Abramo. Non fa discussioni, non fa opposizione come ha fatto Mosè, come ha fatto Geremia. Giuseppe è un po' come Abramo. Maria è un po' come Abramo. E la introduce in casa sua, cioè la riconosce legalmente come sua moglie. Quindi vanno a convivere. riconosce il bambino. Ma il testo dice ma non la conobbe, cioè non si accostò a lei. Conoscere nel senso della conoscenza coniugale. Finché non partorì un figlio. Questo termine, attenzione, perché nella grammatica italiana può dare un luogo a una sorta di incomprensione. Finché non. Segna quasi un limite. In realtà c'è un testo proprio citato dal grande biblista Laurentin che dice nel testo di 2 Samuel 6,23 si dice che Michal non ebbe figli fino alla morte. È chiaro che lei non ha potuto averne dopo. Per cui questo termine finché non segna il limite dell'interesse. Hanno avuto una vocazione entrambi che è quella di essere la santa famiglia. Sono stati costituiti sposi e vergini al tempo stesso perché è opera dello Spirito Santo quel figlio che nasce perché è il figlio di Dio. Per cui Giuseppe non è genitore ma è davvero padre ed è modello di paternità. È padre perché responsabile di quella dimensione non solo giuridica, religiosa ma educativa che deve avere. Lui rappresenterà sulla terra la paternità del padre dei Cieli. Ecco perché Giuseppe è padre per vocazione come Abravo. È un uomo di fede granitica il nostro Giuseppe di grande mitezza e di silenzio. Ecco perché io lo chiamo il facitore della volontà di Dio. E anche Paolo in questa bellissima lettura della Lettera ai Romani fa emergere tutta la sua obbedienza per vocazione di Dio. È molto bello lui che si presenta servo di Cristo Gesù apostolo per vocazione prescelto per annunziare il Vangelo di Dio. Ecco Paolo oggi ci ricorda la presenza di Dio nella storia. Dio è entrato nella storia. La rivelazione cristiana come quella giudaica è una rivelazione di un Dio che è entrato nella storia, che vive in questa storia, che ci accompagna fino al compimento. Ecco perché è importante oggi richiamare che tutti noi siamo stati amati da Dio e siamo santi per chi amata. Non dimentichiamo questo bellissimo documento di Papa Francesco, rallegratevi ed esultate. Siamo tutti chiamati a diventare santi, cioè veri uomini e vere donne. Siamo chiamati a partecipare alla santità stessa di Dio. Solo Dio può umanizzarci. Solo Lui può farci entrare in comunione di vita con colui che è santo. Ecco perché il Natale non è tutta questa preparazione umana, le luci, alberi di Natale che sono alti 5, 6, 7 metri, l'uomo è di un'esagerazione incredibile. Non si tratta di essere esagerati a quel livello. Il Natale è l'eccezionale nel feriale perché il Natale è incontro. Dio ci vuole incontrare e ci vuole incontrare per metterci in comunione con Lui. Ecco la sorprendente novità. Natale è ogni giorno e Giuseppe oggi insieme alla sua sposa ce lo testimonia. Lui è l'uomo obbediente, l'uomo di fede, non sfugge la realtà, l'assume, si mette all'interno della fede, riconosce negli eventi quello che Dio vuole. Ecco perché è un uomo anche di discernimento. Giuseppe non si arrende davanti ai dati del reale, questo è il vero realista, no, colui che accoglie la realtà guardandola con gli occhi di Dio. Questa è la contemplazione. Oggi questi due giovani sposi ci ricordano che la contemplazione è guardare a questa storia nonostante i travagli che subisce con gli occhi di Dio. Dio sta operando la salvezza, il seme si sta spaccando, sta nascendo il nuovo germone. Guardare a questa storia, diciamo che sono loro che realizzano il progetto di Dio, potremmo dire, alla cieca attraverso la fede. nel senso più pieno della parola, cioè si fidano completamente. Ecco perché quel versetto 19 che ancora oggi leggiamo, lui che voleva fare di bello di ripudio ma lo voleva fare in privato, ma non è possibile. Quella cosa si poteva fare solo pubblicamente. In realtà il nostro Giuseppe in uno stato di ricerca è come se si volesse tirare fuori pensando che Dio abbia chiamato la sposa, ma non vuole evidentemente dice che posto possa avere io. Lui fa un passo indietro. Ecco perché Dio poi lo rassicura a fare il suo sogno. Grazie Padre Ernesto. Io approfitto di questi pochissimi minuti per invitare tutti coloro che ci seguono e che ti amano a mettere sotto l'albero un libro nuovo da donare. Cristo sposo crocifisso da Cana alla Croce nel quarto Vangelo ed è il nuovo libro di Padre Ernesto della Corte. Su internet si trova. La copertina l'abbiamo mostrata. Grazie a te Padre Ernesto e tanti auguri per questa nuova creatura. Buona festa. A te. Shalom. Shalom. Grazie a te. Grazie a te.